Il successo del binomio golf e motori ha avuto il suo nuovo suggello a Rieti, dove nella splendida cornice del Golf Club Centro d'Italia è andato in scena il trofeo Rossi Mercedes-Benz. Tanti gli atleti che hanno preso parte alla competizione sfidandosi con Formula 18 Buc e Stable for the 2 categorie. Al termine della gara, a salire sul gradino più alto del podio della prima categoria è stato Giacomo Orsini, seguito da Emilio Petrucci. Nella seconda categoria, a classificarsi primo netto, è stata Vittoria Ucenco e secondo netto Vincenzo Proietti. Premio Mercedes-Benz a Claudio Ciogli. Durante la giornata è stato possibile effettuare anche dei test drive con alcuni dei nuovi modelli della stella, tra cui la nuova EQC, il primo SUV 100% elettrico di casa Mercedes. I giocatori hanno anche potuto ammirare alcune vetture in esposizione statica, come i nuovi GLA, GLB e la classe E Cabrio. Il Golf, commentano dalla Rossi Mercedes-Benz, rappresenta un eccezionale connubio di fascine e perfezione sportiva, in cui si identifica anche il marchio Mercedes-Benz, che privilegia gli sport coerenti con la propria tradizione e i suoi valori. La stella e il Golf, concludono dalla Rossi Mercedes-Benz, condividono una naturale vocazione all'eleganza, allo stile e al rispetto per l'ambiente.